E benvenuti a voi, futuri attori, doppiatori, cantanti, qualsiasi mestiere abbia a che fare con la voce, insegnanti, lettori, perché no? State attenti perché oggi condividerò con voi dei segreti indispensabili per mantenere la vostra risorsa vocale in perfetta forma. Sì, esatto, avete capito bene. La voce è il nostro strumento, il nostro strumento di lavoro, e dobbiamo trattarlo come farebbero i migliori professionisti. Iniziamo parlando della preparazione vocale. Esattamente come un atleta si riscalda prima di una gara, anche voi dovete riscaldare e preparare le vostre preziose corde vocali prima di ogni sessione di registrazione. E non dobbiamo sottovalutare l'importanza di questo passaggio cruciale. Faccio un esempio perché è sempre più chiaro. Immaginate di essere dei corridori e state in quel momento per affrontare una maratona. Non vi lancereste mai nella corsa, così, senza prima eseguire una routine di riscaldamento, o mi sbaglio. Allo stesso modo le vostre corde vocali non possono semplicemente accendersi e funzionare subito al massimo senza una preparazione adeguata. Quindi cosa dovrebbe includere una buona routine di riscaldamento vocale, anche efficace? Entriamo nei dettagli. Attenzione! Prima di qualsiasi esercizio vocale, assicuratevi però di essere adeguatamente idratati. Le corde vocali sono tessuti abbastanza delicati e hanno bisogno di un ambiente umido per poter vibrare correttamente e produrre suoni chiari e potenti. Quindi bevete molta acqua durante la giornata, specialmente prima di una sessione di registrazione. Quindi evitate anche bevande disidratanti come l'alcol, il caffè o il tè. Io stesso ne sono abbastanza ghiotto e devo stare molto attento a capire qual è il momento migliore per berlo durante la giornata. E poiché queste bevande possono seccare e addirittura alcune volte irritare le vostre preziose corde vocali. Un trucco che molti professionisti usano è quello di portare sempre a presso una bottiglia e sorseggiare regolarmente durante le pause. Mantenere quindi un buon livello di idratazione è fondamentale per la salute delle corde vocali anche a lungo termine. Sì, perché possiamo fare anche la migliore performance, avere una voce bellissima in quel momento, ma noi come professionisti dobbiamo anche ripetere queste performance o farne altre in futuro. Quindi diamo la massima attenzione a questo passaggio. E ora che siete idratati è tempo di riscaldare le corde vocali con una serie di esercizi mirati. Ecco vi voglio dare una routine di riscaldamento vocale completa che dovreste eseguire prima di ogni performance. Ogni performance. Dunque respirazione profonda. Prima di tutto iniziate con alcuni respiri appunto profondi, ispirando dall'addome ed espirando lentamente. Questo ossigena il corpo e aiuta anche a rilassare la muscolatura coinvolta nel cantare oppure nel parlare. Poi vi dico questa cosa. Secondo passaggio. Rilassati. Quindi emettete un lungo rilassato, lasciando che le vibrazioni attivino delicatamente le vostre corde vocali. E questo esercizio aiuta naturalmente a riscaldarle, ma gradualmente. Invece subito di andare a fare suoni anche troppo decisi. Poi altro elemento. Terza parte. Stretching della bocca. Aprite ampiamente la bocca. Stirando delicatamente i muscoli facciali. Senza fare robe che poi vi potrebbero creare dei problemi articolari. Ecco. Quindi muovete la mascella lateralmente in questa maniera. A destra e a sinistra. In avanti e indietro. Quindi questi movimenti ci aiutano a sciogliere tensioni, aumentano la flessibilità della mascella. Possiamo sciogliere anche le labbra. Vedete in questo modo. Muovendo la bocca, facendo dei piccoli cerchi. E quarto elemento, quarto esercizio, per riscaldare la nostra voce, quindi il nostro apparato, non solo la voce ma anche tutto l'apparato fonoarticolatorio, fate vibrare le labbra insieme emettendo suoni come... oppure... non è un suono bellissimo ma possiamo eseguirlo anche in questa maniera... in modo da capire bene come le labbra funzionano e come le labbra si tocchino. E riscaldiamo tutta questa parte qua, che spesso è anche difficile da riscaldare. Questo esercizio attiva e riscalda questi muscoli, che sono essenziali in realtà, non sembra, ma lo sono, per una dizione chiara. Tutto questo apparato è fondamentale, voce altrettanto. Ricordate che l'obiettivo principale è quello di preparare gradualmente le vostre corde, senza sforzare troppo, perché queste sono, potremmo dire ancora, fredde, anche se non sono fredde, in realtà sono calde, ma non sono pronte a quel tipo di sforzo. Quindi prendetevi il vostro tempo ed eseguite ogni esercizio con cura e attenzione. E una volta che le nostre corde vocali sono ben riscaldate e pronte per l'azione è il momento di concentrarci sulla proiezione vocale e sul rapporto con il respiro. Questi due elementi sono fondamentali per produrre una voce potente, chiara e priva di sforzo. E questo vi permetterà anche di registrare o di esibirvi per ore senza affaticare troppo le corde vocali. Un minimo di fatica ce l'abbiamo sempre. Stiamo sforzando, c'è un lavoro svolto dalle corde vocali, dal nostro apparato, quindi un minimo di fatica la possiamo avvertire, ma niente di eccessivo, se siamo abituati a lavorare in economia, quindi bene. La proiezione vocale che significa? Si riferisce alla capacità di proiettare la vostra voce in modo che arrivi chiara e forte al nostro pubblico o al microfono. Io troppo spesso vedo persone, ma in realtà sono principianti, che commettono questo errore, quello di spingere con la voce forzando di gola, e che evidentemente può causare della tensione e persino anche dei danni alle corde vocali. Degli sforzi come questo, vi faccio un esempio. Se io parlassi in questa maniera tutto il tempo, potrei sforzare tantissimo le mie corde vocali. Io cerco anche adesso di farlo con un minimo di saggezza, senza sforzare troppo, ma uno sforzo non ben congegnato può causarci dei problemi in definitiva. Il segreto sta dove? Nel supporto del respiro. Imparate a respirare profondamente dall'addome, a sostenere la voce con l'aria che è proveniente dal diaframma. Non proprio dal diaframma, il diaframma ci aiuta a spingere, dai polmoni, dalla parte bassa. E questo vi permetterà di proiettare la voce in modo naturale, senza dover sforzare la gola. Ora vi do degli esercizi più utili e più pratici. Un esercizio è quello di immaginare di soffiare una candela mentre parlate o cantate. E questo vi aiuterà anche a concentrarvi sul flusso d'aria costante e a supportare la voce, che serve per supportare la voce dal diaframma invece che dalla gola. Quindi non posso soffiare in questo modo, parlando in questo modo. Non esce l'aria. In qualche modo è deviata. Se io invece sostengo la voce, sento anche l'aria davanti a me, che viene fuori in un certo modo. Inoltre, date massima attenzione alla risonanza. Risonanza dovremmo aprire un capitolo a parte. Vi bastino questi piccoli elementi per ora. Ci sono le cavità nasali, la bocca e persino il petto agiscono come amplificatori, diciamo così, naturali per la vostra voce. Imparate a sfruttare questa cavità di risonanza per produrre una voce più piena e ricca, senza sforzo eccessivo sulle corde vocali. Adesso ho cercato di sostenere un po' col diaframma e un po' sono andato di petto, ma giusto per farvi degli esempi che possono esservi utili. Questo magari lo vediamo più avanti. È un po' complesso questo discorso perché bisogna fare degli esempi molto più pratici e il nostro tempo a disposizione è veramente poco. Quello che posso dire in generale come consiglio finale è prenditi, e qui lo dico dandoti del tu, non del voi, prenditi cura della voce a lungo termine. Questo è un consiglio che avrei voluto mi fosse dato a suo tempo, perché anche io con la voce ho cercato, anche quando ero più piccolo, più ragazzo, quando ero un ragazzino, di fare delle cose, trovare posizioni con la voce per imitare altre voci, e lì mi sono fatto male. Non in maniera definitiva, ma ho provato del fastidio e del dolore. Quindi, oltre al riscaldamento e alle tecniche vocali appropriate, è fondamentale adottare uno stile di vita sano, e qui la parte noiosa, per mantenere la voce in forma ottimale anche nel lungo periodo. Vi do alcuni consigli importanti che valgono sempre. Questa è la parte in cui faccio un po' il padre. Attenzione. Evitate il fumo. Il fumo è uno dei peggiori nemici delle corde vocali. Può causare irritazione, secchezza, persino lesioni permanenti, ma questo lo sapete già. Se fumate è il momento per smettere e per avere una voce bella curata. Molti doppiatori, molte voci, in generale, fumano. Sì, è vero, e molte voci sono belle, ci suonano bene perché fumano. Ma questo non è un buon motivo per fare dei danni al nostro apparato. E non è detto che fumare, per forza, renda la nostra voce perfetta. Anzi, potremmo trovarci di fronte a patologie che vanno oltre la nostra capacità di affrontare un determinato problema. Diciamola così. Poi, gestite lo stress. Non è facile lo stress eccessivo, l'ho già detto in altre puntate del podcast, porta a delle conseguenze, cioè appesantisce la voce e ci porta a tenderci. Quindi fate yoga, rilassamento, meditazione, sciogliete i muscoli. Perché il vero rilassamento è sempre e solo un rilassamento che parte da un rilassamento muscolare. La mente non ha muscoli. La mente si rilassa attraverso un rilassamento muscolare. Anche di questa parte qua. Ricordiamoci che il corpo non inizia sotto il collo, ma anche tutto il resto del viso ne fa parte. Altro argomento, altro consiglio che vi voglio dare, è dormite a sufficienza. Il sonno è fondamentale per il recupero e anche la guarigione del corpo, incluse le corde vocali. Quindi assicuratevi di avere un riposo adeguato, almeno sei ore, e specialmente dopo un'intensa sessione di registrazione o un concerto o uno spettacolo. Assicuratevi di riposare le corde vocali. Non parlate subito appena vi alzate dal letto. Lasciate ancora, lasciate che le corde vocali si riposino. Dei momenti di silenzio non ci fanno male. Poi, quarto consiglio, se avete dei problemi che ormai sono chiari, sentite la voce velata in continuazione, consultate un medico e poi, se è necessario, un logopedista che vi può dare dei consigli mirati e vi può aiutare anche a risolvere problemi che vi trascinate anche da molto tempo. In realtà il logopedista vi può indirizzare, vi può aiutare a risolverli anche permanentemente o vi può dare delle routine specifiche di lavoro in modo da sforzare meno le vostre corde vocali e la vostra voce. Poi potete considerare delle lezioni di canto, di recitazione. Queste sono sempre valide. Trovate dei professionisti che vi aiutano. Io stesso insegno recitazione, non canto, dico la verità, ma insegno recitazione e quindi posso dirvi con certezza che una buona gestione del fiato e della voce arriva anche attraverso un percorso recitativo. E poi, che posso dirvi ancora? Ricordate che la voce è uno strumento delicato ma potente. Con la cura e la pratica adeguate potrete godere di una voce cristallina, sempre e senza sforzo, per tutta la vostra carriera di dubbiatori o cantanti. E allora, se siete pronti a trattare la vostra voce come dei veri professionisti, iniziate oggi stesso con questi esercizi. Se poi voleste avere anche un'ottima dizione e voleste anche approfondire il lavoro sulla recitazione con la voce, io vi consiglio i nostri corsi su Udemy che trovate a prezzo scontato. Trovate il link qui sotto, sotto al video o sotto al podcast, perché questo video va sul podcast e il podcast va sul video contemporaneamente, usciamo in doppio formato. Trovate il link e trovate anche il link scontato, quindi è il momento di iniziare, è il miglior momento per iniziare. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo io sono Filippo Solaris, non so se l'ho detto all'inizio del video o del podcast e quindi vi auguro come sempre buona dizione.